Fiumi di droga tra Messina, Paternò e Reggio Calabria sono stati scoperti dal gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Mezzina, che ha ipotizzato l'esistenza di un ben più strutturato traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in cui risultavano effettivamente coinvolte diversi soggetti domiciliati nella provincia siciliana. 13 gli arresti per associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa ha preso avvio dalle segnalazioni dei funzionari della dogana tedesca che presso l'aeroporto di Francoforte avevano sottoposto a sequestro alcune spedizioni postali contenenti piccole dosi di sostanze stupefacenti, destinate al territorio peloritano e ad una fitta rete di acquirenti domiciliati nei comuni tirrenici. La consorteria aveva la propria base nei comprensori messinese di Sant'Angelo di Brolo e Racuja e manteneva stretti contatti con esponenti del clan mafioso dei Bontempo Scavo e dei Tortolici e con fornitori calabresi e catanesi appartenenti rispettivamente ai clan dei Pelle Gambazza con zona di influenza nei comuni calabresi di San Luca e Bovalino e alle Ruzzo Assinnata con zona di influenza nel comprensorio catanese di Paternò. Articolazione territoriale del clan Santa Paola di Ercolano.